Cucciolo Marisiga, un tratto di viabilità a nord del centro del capoluogo che se fosse un film potrebbe essere The Never Ending Story, ma avere come protagonista il manzaniano a zecca garbugli. Dai banchi dell'opposizione, due accuse verso chi guida Palazzo Rosso per il modo in cui si è trattato il benefattore. Chi mette lì i soldi in realtà non li mette per la Cucciolo Marisiga, ma li potrebbe mettere per altre questioni. Il sindaco non si sbilancia nel dire come raccoglie i fondi, questo milione e otto, attraverso il benefattore o piuttosto un mutuo, piuttosto che altre operazioni. Sono disgustato dell'atteggiamento di come si è comportato l'amministrazione, in questo caso il sindaco, nei confronti di un cittadino di Belluno. Un cittadino che deve essere tutelato e soprattutto ha avuto in tutti questi anni sempre la massima disponibilità per Belluno. In discussione ci sono dalle modalità adottate nei confronti di una persona certo in gamba, ma anziana, che si deve fare carico di tutto, dalla progettazione all'esecuzione, al fatto che lo stesso avrebbe espressamente chiesto che con la sua donazione venissero realizzate opere che ricevessero una unanime condivisione. Le date confermano questa poca chiarezza e soprattutto la volontà di non essere chiari con chi deve mettere lì i soldi, la metto giù così per non dire altro. Potrebbe anche essere che lui decida di dire io do i soldi lo stesso a condizione che vengano spesi per opere pubbliche che vadino bene, può essere via Feltre, può essere rotatorie, può essere cose che vengono spese per altre opere. Non per un'opera che lui era convinto fosse stata condivisa da tutti, invece purtroppo è successo che nella condivisione non c'è stata.